Partenza da richiamare perché non è neanche entrato l'Avino. Partenza valida ed è Mistra che assume subito l'iniziativa. Al comando è proprio Mistra, di partenza non da richiamare, invece valida. Ma comunque Mistra al comando nei confronti del numero 3 di Our Power in terza posizione di Taparica. Poi c'è ancora Igor Stravinsky, quindi l'Avino. Mistra che controlla la situazione in avanti. Mistra controlla proprio Our Power. Poi c'è Igor Stravinsky che ora pensa di venire via. Infatti è così sul rallentamento di Mistra. Igor che prende la via dal largo, quindi Mistra. Ancora Our Power, Igor Stravinsky, poi c'è Itaparica. Ancora il numero 1 di Lavinium. Viene via anche Nabluzzin. Avanti comunque il numero 2 di Mistra. Mistra, Igor Stravinsky ancora Our Power. Poi c'è ancora il numero 5 di Taparica. Quindi Lavinium a largo c'è anche il numero 8 di Ortigia Rabba che cerca di venire via. In avanti Mistra nei confronti di Igor Stravinsky. Poi c'è ancora il numero 3 di Our Power. Quindi il numero 7 di Nabluz. Ancora Itaparica. Quindi Lavinium per via interna. In avanti Mistra a largo il 6 di Igor Stravinsky. Quindi c'è ancora a largo il numero 7 di Nabluz. Mistra in avanti. Ancora Igor Stravinsky. Poi c'è ancora il numero 7 di Nabluz. Quindi il numero 8 di Ortigia Rabba. Prova a venire via intanto anche Lavinium in terza. Addirittura la scia di Ortigia Rabba. In avanti è Mistra. Mistra che controlla la situazione. C'è Nabluz che gira a largo di Igor Stravinsky per via interna il numero 3 di Our Power. Mistra in avanti. Ancora Igor Stravinsky. A largo c'è lotta fra Nabluz e Ortigia Rabba. In avanti è Mistra. Mistra che prova ad allungare da Igor Stravinsky. Viene vinti anche Ortigia Rabba e anche Lavinium. Cavalli che entrano in retta arrivo. Mistra che prova la fuga da Our Power. Nel tratto conclusivo vince il numero 2 di Mistra nei confronti del numero 3 di Our Power. Terzo il numero 1. 2-3-1 arriva l'ufficio di questa corsa.